Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube Oggi è lunedì, lunedì significa solo una cosa Analisi gameplay Oggi però non vi porto né un match di qualifica Né un match della passata di Champions League che c'è stato questo fine settimana Ma bensì ci andiamo a guardare una mia partita Giocata due settimane fa in Weekend League In particolare l'ultima partita Che poteva permettermi di accedere alla Top 100 Quindi una partita molto tesa Resa ancora più complicata dal modulo utilizzato dal mio avversario Ossia il Benedetto 5-3-2 Quindi oggi ci andiamo a vedere in questo game Come andare a scardinare, come cercare di battere questo tipo di formazione Visto che andrò in particolar modo in un certo momento della partita A utilizzare una contromossa tattica che mi ha aiutato molto Quindi senza perderci in chiacchiere Passiamo subito sulla schermata di gioco Dove si attende per l'appunto il match Io attacco da sinistra verso destra in questo primo tempo Maglia bianca del mio Cagliari E come potete vedere insomma il mio avversario ha questo schieramento super compatto Guardate qui come ha la linea dei tre difensori strettissima E il terzino che può tranquillamente allargarsi sul mio esterno E portarmi via il pallone Tra l'altro io ero anche abbastanza stanco Perché avevo fatto tipo 13 ore di live quel giorno Tra qualifiche eccetera eccetera Quindi mi erano rimaste anche 19 partite di quelle sul groppone E ritrovarmi alla fine un 5-3-2 Veramente è stata una batosta Anche perché il ragazzo che avevo contro Era anche un ragazzo molto 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 capace Guardate qui come io cerco in qualche modo comunque di temporeggiare Vedete come con i miei attaccanti Cerco di dar fastidio senza uscire troppo E poi qui con Bruno recupero ottimamente il pallone Andando a predictare quella che è la sua giocata Qui io cerco di aprire quanto più possibile il gioco sull'esterno Perché è l'unico modo raga Per poter aprire la difesa del 5-3-2 E giocare tantissimo sull'esterno Per andare a creare vuoti centrali Da poter andare a aggredire Quindi questa diciamo deve essere la chiave ricorrente Quando andate a giocare contro questo modulo Cercare il più possibile di allargarlo Allargarlo, allargarlo con pazienza Guardate qui come lui è totalmente schierato Ci tengo a farvi vedere un attimino questa situazione per bene Guardate Io qui adesso do palla a Gullit, ok? E qui potete vedere la mia trama di gioco tipica Ok? Perché abbiamo le mie due punte di riferimento Ossia Neymar e Mbappé Che sono nella classica posizione Per poter andare ad aggredire Ok? Però lui ha esattamente la squadra Pronta a impedire questo Perché ha un difensore che dà fastidio ad entrambe Ha un altro difensore centrale Jolly Che può andare a chiudere in questa zona qua E ha questo libero paradossalmente Col quale continuare a dare fastidio Inoltre ha anche questo Adama Traoré Con il quale va a dar fastidio in questa porzione di campo centrale Tenendolo selezionato per non sconquassare il suo schema di gioco Quindi guardate come lui tiene selezionato solamente Adama Traoré La sua squadra si va a disporre in maniera perfetta Lui va a muovere solamente i mediani Guardate adesso la volta di Blanc E solamente qui va a prendere il difensore Quando ormai io mi sono praticamente andato a incanalare In un determinato spazio di campo E lui va a prendere il giocatore più vicino al mio Che in questo caso era appunto il buona Dama Che mi porta via il pallone Quindi avete visto come si è potuto permettere un'uscita easy Perché aveva un difensore centrale in più Gli altri due gli coprivano il centro E con quell'altro mi è andato a recuperare il pallone Qui faccio io un errore in fase di impostazione Perché come vi dicevo ero un po' stanco Quindi ho tirato un po' dritto In questi primi minuti Qui devo dire la verità Difendo veramente male Ho fatto tutti gli errori possibili in quest'azione Adesso ve li faccio vedere Perché è come se fosse un auto coaching Guardate qui Nel momento in cui mi trovo in questa situazione Esattamente questa qua Non sono messo male Però non posso assolutamente continuare a star così lontano Io questo spazio che intercorre tra il mio Gomez e il suo mani Devo andarlo a coprire Invece stupidamente ho cercato di mettermi In posizione più arretrata Per bloccare il tiro con un autoblock Switcho su Varane che era totalmente inutile Rimango lì largo Lui si gira rapidamente E mi fulmina Per la rete che gli vale l'1-0 Quindi vado sotto al quindicesimo minuto E... insomma Solo diciamo per colpa mia Perché faccio veramente una difesa Una difesa pessima Lui non si è inventato nulla E andar sotto in una partita del genere Soprattutto di Weekend League Che quindi è una partita secca Non è mai facile ecco poi Da cambeccare Guardate qui come lui Sta ancora con il suo schema Perfettamente in posizione Si va a selezionare solo i centrocampisti Adesso è la volta di Bruno Guardate quel Walker che era uscito Come recupera la posizione Ancora con Blank Continuo scambio di Switch tra i mediani Arrivato a questo punto Lui Sbaglia Perché in questo In questo frangente di gioco qua Io con tantissima pazienza Guardate come giro tanto il pallone Micro movimenti su me stesso Palla poi data dentro a Mbappé Io qui mi accorgo Guardate Lui in questo momento Ha ancora selezionato Blank Ok? Quindi ho tutto il tempo Per potermi girare Fare un tacco-tacco Voglio guadagnare spazio Per la conclusione Visto che avevo paura Dell'autoblock di questo Vambissaka Vedete che questo Vambissaka Fa un movimentino L'ho superato Vado a fare il tacco-tacco Qui banalmente Non avrei dovuto calciare Perché effettivamente Quest'uomo qua Si sa che vado a autobloccare Quindi magari avrei potuto fare Una finta di tiro più crocchetta Avrei potuto inventarmi qualcosa Di un po' più creativo Però Ho cercato la conclusione Che sia andata a infrangere Sull'ennesima barriera Da parte sua Di conseguenza Ho trollato quest'azione E lui riparte Con la sua classica trama Da 5-3-2 Poi con il ragazzo Ci ho parlato Perché mi è venuto in chat Ha detto che era la prima volta Che usava il 5-3-2 In questa Weekend League Infatti Alla fine non è che Giocava tanto da 5-3-2 Perché Non giocava con gli esterni Non sfruttava le sovrapposizioni Dei terzini Giocava molto per via centrale Insomma Non è proprio una delle cose Più raccomandabili Ecco con il 5-3-2 Io qui continuo a cercare La mia trama di passaggi Per aprirgli la difesa Però purtroppo Non riesco Perché vedete come fanno Buona guardia I suoi mediani Lì chiusi In zona centrale Chiaramente E' questo il gioco Che devono fare Io qui cerco Ancora una volta Di tirargli fuori I difensori Però il buon Gullit Aveva deciso Di sabotarmi In queste prime battute Del game Qui fa finalmente Una giocata La 5-3-2 Io purtroppo Mi faccio prendere In controtempo Perdendo questa brutta palla In questo momento Qui io devo già capire Già capire Perché guardate qua Il suo mané Ha fatto il classico Movimento con la manina Che fa capire Che lui ha schiacciato L1 Quindi la direzione Di questo mané Sarà inesorabilmente Questa Io qui ho selezionato Questo Mendy Che sicuramente Non darà fastidi A questo Rashford Perché c'è troppa distanza Con l'analogico Quindi R3 Lungo questa linea Obliqua Sarei dovuto andare A switchare Sul buon Gomez E avrei dovuto Iniziare a traccare La corsa di questo mané Visto che Comunque il mio Gomez Era in vantaggio Cosa che non faccio Temporeggio troppo Colpevolmente Di nuovo Mi ripeto Anche un po' complice La stanchezza Dopo 13 ore Guardate qui Io non lo seleziono mai Gomez Lo seleziono In ritardissimo Lui lo lancia E mi insacca La rete Del 2-0 Al ventesimo E non vi nego Che dopo 13 ore di live Qui Faccio una cosa Che non si doveva fare Perché iniziò a dire A me stesso Vabbè Finita E c'è poco da fare Lui qui addirittura Mi mette pausa Perché sperava Che me ne andassi Insomma Un tentativo Un po' ardito Da parte sua A cercare Di farmi quittare Però vi voglio far notare Quella che è La giocata Qualche modo Game changing Della giornata Perché come potete vedere Batto E in basso A sinistra Notate che si apre Lo schemino Delle tattiche Quello che si attiva Quando fate freccetta su Vado poi di freccetta A sinistra E attivo Terzini offensivi Già Perché il 5-3-2 Abbiamo visto Che è un modulo Di ripartenza Quindi essendo un modulo Di ripartenza È un modulo Che se Attaccato Per bene Con giocatori Che ti vanno a fare Superiorità numerica Finisce per l'essere Schiacciato E se voi Non buttate il pallone È difficile Che vi ripartano E vi facciano del male Quindi ho pensato Io adesso Mi inizio a tirare sopra I miei due terzini In maniera tale Che il mio 4-4-2 Diventa Un'attacco In zona di attacco Un attacco Che ha Sia i due esterni Sia Le due punte Sia L'aiuto Di uno dei due centrocampisti Quindi in questo caso Avevo una propensione Offensiva Di 1-2-3-4-5 6-7 Giocatori Che iniziava a creare Un po' di superiorità numerica A quella che era La sua difesa 5 Poi lui Solitamente Arretrava sempre Con i suoi due Mediani Quindi Ho iniziato a giocarmela Quanto meno alla pari E così la differenza L'avrebbe fatta Quella che era appunto La bravura Nell'andare a creare O meno gli spazi Quindi passo A questo schema Un po' più spregiudicato Sempre con il 4-4-2 Però senza andare A cambiare modulo Perché magari Mi chiedete sempre Ma se questo gioca Col modulo X Io devo mettere Il modulo Y No Basta semplicemente Prendere un attimino Delle contromisure Io qui Faccio un altro errore Perché qua Libero benissimo Cristiano Ronaldo Tra le linee Arrivo bene in aria Tempo reggio Molto molto bene In questo momento qua Io ho segnato Io ho segnato Perché se io faccio Il tacco-tacco In questa direzione qua Ho anche il tunnel Banalmente Una qualsiasi skill Che mi avrebbe Concesso La possibilità Di aggredire Questa porzione Di campo Io avrei fulminato Pope Sul palo più vicino E avrei segnato Invece decido Di girarmi Per andare a Prendere il destro Di Mbappé E la palla Mi viene tolta Dal buon Gomez Io però Non demordo Cerco qua Un bridge Mi fermo in aria Purtroppo Il suo Bambissaga Insomma Ha la meglio E mi Mi sottrae il pallone Lui Vedete come inizia Un po' più A padroneggiare Il modulo Inizia a giocare Un po' più Di ripartenza E vedete qua Come il mio Varane Vada un po' a coprire La mancanza dei terzini Difendo molto Molto male Inizialmente Perdendo quella palla Però poi recupero Alla grande E per fortuna Pope fa Buona guardia Qui perdo ancora Un'altra volta Pallone in uscita Vi ripeto Ero un po' tiltato Ero un po' sfiduciato Ecco Cose che non dovrebbero succedere Perché fino a quando L'arbitro non fischia La partita È ancora apertissima E poi Diamine Era il trentacinquesimo Insomma C'era più di metà partita Ancora da giocare Condemar Recupero il pallone Guardate Mendy Come viene a supportarmi La manovra E guardate In questa situazione Come sono disposto Il mio Gullit Porta palla E abbiamo il primo giocatore Abbiamo il mio Mané Che si sta sovrapponendo Lungo questa zona Abbiamo il mio Neymar Tra le linee Il mio Mbappé Che sta tagliando In questa zona centrale Il mio Ronaldo Che impensierisce Questa fascia qui Il buon Mendy Che si è andato A sovrapporre E finalmente Iniziamo a ragionare Perché lui ha Sì tre giocatori Sì quattro giocatori Sì cinque giocatori Però questo qua È un pelino In ritardo Quindi iniziamo Un attimino Insomma A A spaventarlo Ecco In tal senso Qui faccio scattare Mbappé Avrei potuto servirlo Probabilmente Avrei potuto servirlo Guardate qui In quest'altro frangente Lui ha Due giocatori in aria Che praticamente Vanno a coprire Questi due Il mio Gullit È fronteggiato da questo Mané È coperto da quest'altro Ma è un terzino libero Quindi diciamo Che lui è sempre Un po' impensierito Vedete Guardate il Mendy Come va A Impensierire Andandosi a A buttare In quella porzione di campo Qui questo passaggio Con Bruno Fernandes È un pochino Azzardato Perché insomma Di prima lì Troppa distanza Tra i reparti Non c'era E allora io Cerco con pazienza Sempre di andare A scardinare La sua La sua resistenza Qui faccio una giocata Di Cristo Di Cristo Che meritava Sicuramente Esito migliore Perché Guardate qui Con la temporeggiata Di Gullit Faccio finta Di andare verso sopra Poi taglio verso il centro Perché so che Mbappé Mi sta tagliando Gli servo il pallone Qui finta di tiro Di prima Per liberarmi Mbappé purtroppo Tira una mozzarella In carrozza Quindi Purtroppo non riesce A piazzarla dentro Da questo calcio D'angolo Però Un po' di magia Quadrato Che si butta dentro Grazie alla tattica Del terzino Offensivo Tacco tacco A fulminare Il buon Pope Sotto le gambe Di Adama Quindi Terzini che Vanno a costruire Il Il goal Che accorcia le distanze E come avete visto In questo caso Vado a chiudere Vado a chiudere La tattica Del terzini offensivi Perché Avevo comunque Recuperato un goal Quindi non volevo Essere preso Stavolta in imbucata Sentivo che lui Stava un attimino Pagando lo scotto Di aver subito Questo goal E quindi Dico di Giocarmela Almeno per una ventina Di minuti Come sapevo Quindi coperto Tranquillamente Senza andare a forzare Troppo la giocata Qui con tantissima Pazienza Vado a costruire Quest'azione Vedo che lui Non switcha Decido di Bridgeare con Gullit Per andare ad Aggredire Questa porzione Di campo Vi faccio vedere Qua Questo proprio Bridge Eseguito In maniera Magistrale Perché Lui ha il giocatore Alla mia destra Come vi ho spiegato Nel tutorial Sia blank Che l'altro Difensore Questo non l'ha Selezionato Quindi nel momento In cui io andrò A lanciare il pallone Sicuramente L'uno avrà il tempo Di avere La reattività Di sottrarmela Quindi io vado A brigiare Gullit si ritrova In una posizione Favorevole E col sinistro Chiaramente Da lì Il buon rude Non può sbagliare Riscatta un primo tempo Un po' anonimo Con la rete del 2 a 2 Quindi Questa combo Di terzini offensivi Che l'hanno spaventato Più Tolti E ritornare Comunque ad uno schema Di gioco ragionato E magari Un pochino Più coperto Ci portano Alla rete Del 2 a 2 Quindi per fortuna L'abbiamo recuperata Quella che è una partita Che stava scivolando Invece Verso Verso binari Che insomma Non erano proprio Favorivoli Quindi qui Mi sincero Che insomma L'avversario Stesse usando il 5-3-2 Ma era evidente Me ne ero Me ne ero accorto Lui ovviamente Non cambia niente Secondo tempo Che riparte Su quella che è la falsa riga Del primo Lui cerca Nuovamente Di fare un qualcosa Che non è Nelle corde Del 5-3-2 Perché vedete come cerca Di aggredire La zona centrale di campo Lui credo Che avesse Un 5-3-2 Un pelino atipico Troppo abbottonato Perché non c'aveva i terzini Che gli salivano Senza i terzini Che salgono È un modulo Che è troppo Spaccato Tra i reparti Troppo Quindi non Non riusciva A sfruttare Quella superiorità Numerica Tipica Mentre io Qui rinfrancato Vedete come cerco Sempre di andare Ad arragare L'azione Dall'esterno Verso l'interno Per poter Andare a trovare Un'imbucata Lui Ormai Era un po' Fuori giri Vedete come cerca Sti 1-2 Come se stessi Utilizzando il rombo Praticamente Non in Il 5-3-2 Qui ancora una volta Cambio lato Vado ad attaccare Da sinistra Verso destra Cerco un tacco Tacco Ma purtroppo Van Bissaka In 1-1 Riesce a difendere Magari potevo tentare Potevo tentare Un bridge Guardate lui qui È isolatissimo Con questo Rashford Perché non ha il supporto Di nessuno Sì adesso Gli si vanno a buttare Dentro l'altra punta E anche un centrocampista Ma sono troppo scollati I suoi reparti Troppo veramente Quindi qui Io cerco addirittura Di prenderlo in contropiede Insomma Un 5-3-2 Che si fa prendere in contropiede È un attimino Qualcosa di Di atipico Cerco degli scambi veloci Non volevo mai Passarlo a Gullit In questo caso Però Ehm Agganciali Qua lui fa Un filtrantone Di quelli Importanti Per fortuna Il mio Pope Si ricorda Che se non si può parare Con le mani Almeno abbiamo anche Le ginocchia Quindi fa un grande intervento Di ginocchio Qui tiro veramente Un sospiro di sollievo Perché è un gol al sessantesimo Ma avrebbe un po' spezzato Insomma L'entusiasmo Questa è un'altra chiave Questa di questi scambi veloci Tra i giocatori Perché il 5-3-2 Appunto è un modulo Dove insomma Solitamente Non si va Tanto a switchare Se non tra i mediani Quindi se Andate a fare scambi rapidi Mettete sicuramente in difficoltà Il vostro avversario Guardate qui come ancora una volta Arrivo al limite dell'aria Cerco questi scambi rapidi Cerco di andare a far Inserire un po' Tutti i miei giocatori Guardate come Sfrutto gli inserimenti Qua col tacco-tacco Con Mbappé Però purtroppo Il muro centrale Si era ricomposto E quindi non riesco A penetrare Però con Varane Recupero una gran palla Avevo alzato tanto i giri Qui avrei potuto Probabilmente servire Ronaldo Solo che non me la sono sentita Perché quando giocate Con sto modulo Ogni azione Va sfruttata E insomma Ti viene un po' Tra virgolette Il timore reverenziale Di buttare Di buttare via il pallone Con un passaggio Che non va Qui Me ne sono pentito Perché con questo movimento Di Mbappé Avevo effettivamente Saltato l'uomo Guardate Lo metto in isolamento Faccio questo movimento Salto l'uomo Avevo tutto lo spazio Da aggredire In 3v2 Praticamente In questa porzione Qui centrale Solo che non me l'aspettavo Che abboccassi a questa finta Quindi avevo Predictato male Quindi torno Un'altra volta indietro Ma non faccio altro Che andargli A sbattere addosso Quindi lui Recupera il pallone E ricomincia Con questa sua trama Di Spam di L1 Per far partire I suoi giocatori A suon di filtrante Finalmente Trame da 5-3-2 Da parte Da parte sua Io qua Recupero una buona palla Ma purtroppo Per il signor arbitro Questo è un fallo Quindi Punizione Sulla 3 quarti Per Per il buon Mattia Che era il ragazzo Che avevamo contro Rude Rude Lo ricordo Ricordo ancora bene Perché continuo Perché continuo a tenere Selezionato Benemar solo Comunque E' un'altra Aspettati un attimino che io gestisco un po' palla, tu ce l'hai nel DNA con questo modulo, ovviamente te lo vado a fare anche io, anche se come vedete non è che lo vado a fare in maniera proprio eccessiva dall'ottantacinquesimo, però ricordo che le battute finali del match saranno proprio all'insegna di questo. Lui alla disperata cerca un attimino di portare palla su, io rinculo benissimo col mio Gullit, poi esco con Baran, con Bruno, vado a terminare il disimpegno, però purtroppo lui recupera il pallone, sbaglia questo passaggio verso Giocanzelo, finalmente sfruttando i terzini offensivi, solamente una volta che è andato in svantaggio, cosa per me erratissima, come infatti poi gli ho detto anche nel video, in live, che poteva mettermi molto più in difficoltà utilizzando i terzini offensivi. Vado a lanciare lungo sul buon Sadio Manet, e qua ragazzi, insomma, inizia quello che vi ho detto, ottantanovesimo, non vado sulla bandierina, però, insomma, poco ci manca, gestisco palla, aspetto che l'arbitro decredi il recupero, palla dietro, e arrivederci, insomma, per me era una partita importante, insomma, tutto è lecito. Quindi ci portiamo a casa questo game, sudatissimo, con un po' di ingegno, vista la contromossa dei terzini offensivi, con tanta pazienza, che deve essere assolutamente la chiave, la chiave, quando andate a giocare contro un modulo di questo tipo, raga. Quindi, sicuramente, spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere che ne pensate, vi ricordo un like, iscrivetevi al canale, perché stiamo andando una bomba e mi fa super piacere. In descrizione trovate tutte le info per le live giornali sulla piattaforma Viola. E' nulla, ragazzi, a me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata. Ciao dal vostro Riberospi. Grazie.